e poi ti dici che c'è trovata la gente che non sapeva comportare tu devi parlare con i buoni e con il tuo comportamento quello che ho fatto è un lato a me non mi dà è buono come ho comportato faccio i fatti miei non parlano mai è buono io sono stato imbarcato e ho citato 4.000 pasticchie di coppa io ce le coppa sono sane per caffettare nelle gagne il carandello è portato a svegliere fa freddo eh? no non ci calma la tappa la massa è buono è normale che non fa freddo non si capisce le giubbine, sciarpe lana, mutande di lante sono proprio bella carica io ho capito non ho capito non ho capito ma poi ti aprivo la poca fatica per quattro non ti puoi tenere un po' di niente non è fatta fatica non ne hai mai visto niente cosa io andavo a migliorare un po' a viaggiare con i pagagli amari a fare un po' di lavoro ma la menta ma la menta? io l'ho stato imbarcato per un po' la menta per un po' la menta per un po' di niente per un po' di niente sono rimasto solo ho mirato una mamma che è una mamma mi ha imbarcato che facevi? io facevo i pesci tu che fai? io ho pesciato noi ieri andavamo imbarcato i traghetti i traghetti i pesci i pesci non li ho fatti mai pesci è duro frate devi pagare a fare le reti devi pagare a fare le reti è un po' di niente allora l'hai fatta no questo è qualcosa di serio allora l'hai fatta i 12 minuti ma ce l'hai fatta la riccia le hai fatta da me solo allora così va che rimane un direttore e quindi non mi l'hai fatta fare meglio le calciate le due calciate proprio perché ti sono subito il capo tutti i ragazzi non hai fatto che ti vai perché tu hai seguito il direttore ma questa lanna figura in me no non puoi andare a venire tu devi andare a portare l'atto adesso il bide se ne è giusto tutti vai non è una persona che ce l'hanno fatto per un traccio Quindi mi danno i suoi, niente a quelli che hanno i suoi occhi, ci sono ancora più bravi di lui. Se non lo riro, non è solo il tipo di piaccia che lo riro e poi la sfotte, io ho pazziato, non vale la pena di pazziato. Ma voi perché state parlando di cosa sei? No, si è parlato di una vecchia che lui ha passato da Barane con un insegnante e non la conosce. Stamattina sono andato al banco e ci ha fatto un giudice. Pazzo, roba, non giudice. Ma a me che me ne fottono. Faccio il cuofano, sai, perché non sai perché. Ma se? Perché già ho avuto le storie. Ma c'era Napoli, noi c'era Napoli. Ma Napoli è avuto perché i ragazze, i ragazzi, le macchines, le macchine rosse, le macchine rosse. Da volte oggi sono stati arrattati e non la macchina rosse. Pugnavano quattro che la versi del 10-10, mi sono venute e la voglia di rimettare. Già con un compiuto già vero, non ciò che ne metteremo, per il nome con gli uomini, tutto come l'opera. Ma che state facendo? L'unica cosa bella che voglio raccontare è che c'è tanti problemi sulle navi, l'incartelare il navi, i biglietti, le tracchette, la società mi ha scelto da me e per fare un servizio era una persona di fiducia, di sorta, di contabilità, che guai. C'è Napoli, Beverello, Beverellisti, Biglietteria, Bigliettea Ischia, Napoli. Che le cose belle che rimaste. Anche gli spettatori, altrimenti si sta da una fuori. Non so che la gente faccia i miei tarandezza, non la gente che lo compiene nei vostri, non ne parla. Ne va ai vostri. E' una roba, l'acqua, 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 l'acqua... Che direttissimo stasera. Anche quella cammina. Cammina? Questa c'era. L'importante è camminare. No, si fai tre, tu. Non so capendo. Se tu cammini, tu puoi male, tu puoi male, ma puoi fare un'altra. E voi state dicendo che voi l'avete fatto in tarantella? No, no. E voi siete formata. Queste storie. Ci hanno fatto i fettori. Perché ci hai tolto queste persone qua. Ci fanno pure i dispietti. Ma chi sono? Ci fanno accattare proprio la mattina. A mezz'ora. E che si accattano? A frutto? A mezz'ora. A mezz'ora. Allora non hai capito niente. Ma io bello a fruttoria a casa. Che su casa non si sa vedere. No, no. No, che lo lasciamo aperto. No, dove ne hai? Non dici meno. Perché mi ricordo. Ma perché hai trovato questi discorsi? Perché la verità è anche un professionista. Perché no, tu stai lì sul resto. Ma la signora si è rompendo la villa di Tentapos. Quando era a Lira? Eh, a Lira. E ora il signor non ci sta giurando. No, no. Non è importante. Era l'orario che noi siamo andati a mangiare. Un giorno città altro. Andati a mangiare. Era la mattina alla Corso delle Unici. Ma si mangia buona la Corso delle Unici? No. Sì, era una marete. Va bene. Perché questi guadoni proprio complicati. Sì, eh? No, sei troppo complicato. Stai due a due stessi. Stai proprio guaiati. Stai proprio guaiati. Stai proprio guaiati. capito. Mi vanno... questo pallone non sono i cittadini ma non sono i tuoi. Scusate ma se la sezione è attenzio. Quando ti prendono i trentanti, l'altro dal sالم deve prenderla. E ti aiutero a rompere in una maniera. Le fattorie. E loro stavano da una mitty in una maniera, perché mi hanno computi e ho tutti i problemi. Mi hanno fatto tutto bene. Ma voi non ti hanno uscito? No, io stavo prima su guido. hai visto? lo so, ce l'hai visto abbarano e moscia ragazzo la male dovevo buona ragazzo la male dovevo buona tu parli male a me dovevo buona vieni nella scuola, vieni nella scuola, vieni nella scuola e vieni nella scuola e vieni nella scuola e vieni nella scuola siamo un guai che non fa tutti i tuoi e che sei, che sei una roba che c'è così chi c'è stai? un malamento non si parla con il malucco non si parla con il malucco il buono il buono di nuovo è il buono si rimane male ci rimane male, perché ci rimane male, giù nella mese notte non potevo venire, ma l'hai che ritrovo la cosa buona che cazzo chissà hanno perso la